Anche quest'anno stiamo festeggiando il Santo Natale in uno dei nostri centri di AES della provincia di Trapani. Quest'anno c'è la novità del presepe vivente qua a Mazzara, dove negli anni passati non si era mai potuto fare. Io sono contento di vedere non soltanto diecini e diecini di nostri ragazzi che compongono questo presepe vivente, ma anche delle migliaia di persone che sono venute stasera a festeggiare il Santo Natale assieme ai loro figli, assieme ai nostri ragazzi, assieme a tutto il nostro personale, assieme a tutti i dirigenti dell'AES. Ritengo che queste feste che uniscono i cuori di tutti noi possano servire come viatico per l'anno che sta per venire, che sta per iniziare, possa essere foriero di pace, di godimento, di soddisfazione di tutti i nostri bisogni. Non mi resta altro che augurare ora a tutti voi un Santo Natale, Sante Feste e tanti auguri per tutte le vostre necessità. Che Dio ci esista a tutti. Noelle, 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 Noelle Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti